Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sulleleking tv questo sarà un video soltanto diciamo così pubblicitario su quello che ci sarà prossimamente sul canale allora iniziamo subito da questa sera ragazzi mi raccomando questa sera 6 settembre 2019 c'è la prima live di spacchettamento della trener XL 2019-2020 ma non solo c'è lo spacchettamento in live e sarete voi a indovinare la card che ho trovato quindi ragazzi sarà anche un gioco da fare insieme io spacchetterò e vi aiuterò con gli indizi a indovinare quale card ho trovato quindi preparate le vostre checklist in mano per riuscire a indovinare la carta non si vinceranno premi perché non voglio che poi magari ragazzi in live entrate in concorrenza magari ci sono poi eventi spiacevoli non si vince niente non ci sarà una classifica è soltanto per divertirci insieme e quindi stasera questo è il primo appuntamento con la trener XL 2019-2020 in live e in più ragazzi questo video era soprattutto a livello di pubblicità e di far sapere le modalità del canale ai nuovi iscritti che cosa significa? chi già è iscritto lo sa la domenica mattina c'è un video che esce alle 11 di spacchettamento più ce lo ce lo manca in cui vi saluto con le figurine o con le card inizierà da domenica questa quindi 8 settembre 2019 i saluti con le card adrenali XL 2019-2020 come consiste? io spacchetterò le card e vi saluterò mano a mano che pesco le card sarete voi a prenotarvi per essere salutati quindi domenica qui sotto commentando questo video lasciando un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale senza essere iscritti questo mi sembra il minimo possibile seguirmi su Instagram quindi qui sotto commentare se volete essere salutati domenica e con quale card in che senso se siete tifosi della Juventus potete essere salutati con la card della Juventus se siete tifosi della Roma potete essere salutati con la card della Roma o via dicendo se non trovo le vostre card ragazzi a fine spacchettamento vi saluto comunque sia a tutti però se avete piacere di essere salutati con la card della vostra squadra del cuore lo potete fare prenotandovi qui sotto a questo video questo soltanto per adesso ragazzi perché è uscita questa novità della Trainer XL 2019-2020 e vi avevo chiesto a già gli iscritti che già conoscono questa modalità sul canale di non commentare nel video passato la prenotazione perché se fossero uscite queste card come è successo ci sarebbe stato il video con queste card quindi poi dopo la prenotazione non sarebbe stata valida perché c'erano altre figurine per essere salutati quindi mi raccomando ragazzi commentate qui sotto per essere salutati domenica con le card della Trainer XL mi raccomando scrivete mi saluti e se volete essere salutati con un altro nome che non sia il vostro nickname specificatelo e la figurina cioè la card con cui volete essere salutati di qualsiasi squadra potete anche scegliere soltanto una tipologia di card per esempio io voglio essere salutato con le card di idolo io voglio essere salutato se trovi la card top player o se voglio essere salutato con un altro tipo di card quindi non per forza soltanto con quelle delle squadre io ragazzi vi saluto ci vediamo prossimamente ma proprio questa sera in live ciao a tutti